Oggi abbiamo le giornate lunghe, se voi venivate qua il mese di giugno, a mezzanotte c'è ancora luce. Dopo il 23 di giugno comincia le giornate ad accorciarsi un po' alla volta e quando arriviamo il mese di novembre non abbiamo luce prima delle 10 e mezza del mattino e alle 3 e mezza del pomeriggio fa di nuovo buio. Quindi le giornate sono molto lunghe, molto tristi e la gente vive molto in casa. Gli anziani, i pensionati, quelli vanno a passare tre mesi in Spagna, ci sono centri norvegesi a Alicante, a Benidorma, a Fuencerola, dove vanno là, c'hanno come fosse una isola in mezzo alla Spagna. Durante l'inverno ghiaccia, diventa un blocco di ghiaccio e fanno molto patinaggio durante l'inverno. Nel centro di questo lago, nel parco, abbiamo un museo Gli portava legno, però non era legno normale, era legno in Mocano, che qua non esiste, per costruire porte e finestre. La figlia, Olga, morì nel 1965, ha 85 anni e lasciò la casa in eredità del comune in cambio con la clausola di non cambiare niente di quello che era in casa. Quindi se voi andate a visitarla, vedrete i quadri. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. No, 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 no. Le sardine quando le pescavano, perché anche loro lo facevano a pescare sardine, quando le pescavano loro le fingevano e poi le mettevano in scatola, mentre qua le lavano e poi le mettono nei forni e le fanno affumicare. I fogli sono catramati di fogli di legno compensato, però sono catramati e poi ci mettono uno spessore di legno ogni 60 cm e ci inchiodono queste tavole qua, queste perline diciamo. In queste case bisogna pitturarle ogni due o tre anni, bisogna pitturarle, bisogna controllare le finestre se sono a posto, abbiamo un totale di 5.000 isole che sono unite con i punti e con i feri volti. Ci troviamo nel giorno dove si chiama la passeggiata blu e qua presto arriviamo al busto del petrolio. Sono navi veterane e durante la sera sono come ristoranti, si suonano, cantano, hanno birra, salmone, all'agosto e qua potete mangiare e bere. Sono navi? Non è ingresso, il ingresso è giusto, paghi quello che consumi. Quante? Tre navi che non c'è? Tre? 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 Sì, grazie, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Grazie. Grazie.